CNR TV, le news. I nostri sogni non si processano, è questo lo slogan che ha accompagnato la fiaccolata lungo il centro storico ieri sera a Vicenza, alla vigilia del processo che stamane vedrà imputati 30 attivisti in Odalmolin per l'occupazione della prefettura avvenuta il 16 gennaio dello scorso anno. L'occasione era il primo anniversario dell'editto di Bucharest in cui Romano Prodi dichiarò di non opporsi alla nuova base, fra i reati contestati, violazione di domicilio e resistenza pubblico ufficiale.